cari amici sempre qui in fase di raccolta siamo alcune magari si riescono a raccogliere anche a mano non ce n'è molte però ce ne sono tre che sono parecchio cariche allora l'abbacchiatore fa il suo mestiere queste qui sono un pochino più verdi però va bene perché in sostanza la maggior parte sono mature vi faccio vedere quindi insomma l'olio che verrà sarà senz'altro di buona qualità ecco questi sono già due piante che ho raccolto e per cui io continuo a presto